I nostri prodotti non sono né conditi, non c'è conservanti né coloranti, sono proprio cotte al naturale come li potrebbe fare una massaia a casa. Io sono Massimiliano Nanni, sono figlio del titolare, attualmente mi occupo di controllo qualità e un po' del commerciale. La nostra storia nasce grossomodo negli anni 40. Mi snonna, insieme alla nonna, iniziarono a produrre queste verdure che portavano le piccole botteghe in città. Con l'arrivo della grande distribuzione il babbo iniziò con queste realtà che oggi come oggi coprono l'80% del mercato, insomma, delle vendite. Nel 2010 poi siamo entrati in questo stabilimento. Abbiamo circa 60 ettari di terreni e la maggior parte del prodotto è di nostra produzione. Il prodotto, diciamo, oggi va di moda al chilometro zero. Noi si fa proprio alla lettera quasi. La Codipra, la collaborazione, è nata circa 20-25 anni fa, perché prima noi facevamo in termoformato. Poi il mercato è andato tutta in un'altra direzione e abbiamo iniziato a fare anche noi termosaldato. Ci erano conosciute due o tre aziende. Il Pro mi era sembrata la più misura d'uomo, anche come assistenza, come servizi. Sono macchine che ormai conosco, diciamo, come le mitasche. Io provo tre macchine. Due prese nuove. Una è una ventina d'anti. Quella mi fa un po' da muletto. Sono macchine affidabili. Tanti ci lavoro. Altre due le ho sostituite. Sono sempre buone. Molte volte ci si confronta. Per esempio c'è da fare un tipo di lavoro. Ci dà un po' di spunti l'uno all'altro. Si trova molto bene. Perché se uno vuole andare un po' fuori regione oppure fare un po' anche l'estero, c'è bisogno di una shelf life più lunga. Anche perché perde giorni nel trasporto, nello smistamento. Anche nei mercati dove il prodotto è un po' meno conosciuto, ha bisogno di rimanere un po' più in vetrina. Non è come qui che fa la rotazione giornaliera. Magari là c'è bisogno di avere un po' più di resistenza. Facciamo principalmente il centro Italia. Però negli ultimi anni, come vi dicevo, si è espanto un po' il mercato. Con il fatto che le verdure pronte sono comode, sono più salutari di altri prodotti, piano piano stanno entrando. Grazie a tutti. Grazie a tutti.